Quando porti una nuvola di punti all'interno di un software che è in grado di gestirla e elaborarla, ti si aprono tutta una serie di possibilità legate alle informazioni della nuvola di punti e a quello che ti permette di fare il software con i suoi strumenti su quella nuvola di punti. In questo video ti faccio vedere che cosa succede all'importazione di una nuvola di punti dentro il software Open Source Cloud Compare, che secondo me è il miglior software con cui puoi iniziare a lavorare e a mettere mano sulle nuvole di punti. È Open Source, è libero, c'è un sacco di documentazione a riguardo ed è fatto molto molto bene. Questa è una nuvola di punti che riguarda un versante che ho acquisito, che ho prodotto a seguito dell'integrazione di tecnologie diverse, metodi attivi, metodi passivi. Ho fatto un'acquisizione LiDAR montando il LiDAR a bordo di un drone che ha volato su questo versante, poi ho fatto delle fotografie sempre attraverso un drone che poi sono state elaborate in un software di fotogrammetria per integrare alcune parti. Insomma, non è molto importante la genesi di questa nuvola, comunque l'informazione che vedo occupa lo spazio tridimensionale dell'area principale di lavoro di Cloud Compare, che è questa, e mi permette di ruotarla facendo clic, trascinando con il tasto sinistro del mouse, di traslarla sul riferimento cartesiano bidimensionale dello schermo, quindi posso traslarla in alto o a destra a seconda di come oriento la nuvola e quindi di come si orienta il sistema di riferimento cartesiano tridimensionale che vedi qua in basso all'interno dell'area di lavoro, e posso zoomarla con la rotella, quindi posso scrollare per entrare o allontanarmi dalla nuvola di punti. Questo è l'elemento nuvola di punti. Probabilmente il tuo schermo, lo sfondo della tua area principale in Cloud Compare, se non hai fatto delle modifiche, non ha il colore nero che vedi nel mio schermo, è una scelta che ho fatto io perché mi trovo meglio a lavorare con il nero come sfondo, tu dovresti avere una gradazione di blu. Se lo vuoi modificare, devi andare su Display, Devi andare su Display Settings, Colors & Material, e poi c'è il tab dei colori con lo specifico riferimento al background, quindi entri qua dentro e puoi cambiare la colorazione dello sfondo. La nuvola di punti, una volta che viene caricata dentro Cloud Compare, viene associata ad un'entità. In alto a sinistra c'è un box che si chiama DB3, Database Tree, albero dei database o albero dei layer, perché poi alla fine le cose si aggiungono una sopra l'altra, anche se in realtà non vengono trattati come dei veri e propri layer che nascondono quello che c'è sotto, quindi si tratta di accendere o spegnere la vista in relazione a quello che c'è qua dentro. L'entità nuvola di punti ha associata l'icona, che è questa qui, che è l'icona di una nuvoletta, non so se è molto chiaro da questa vista, da questo zoom del mio schermo. Ogni elemento che porti dentro Cloud Compare o che lui ti produce durante l'elaborazione che fa al suo interno è un'entità, e ad ogni entità il software associa un'icona e con ogni entità si possono fare cose diverse rispetto alle altre entità. Ti farò vedere le altre entità disponibili, trattabili dentro Cloud Compare negli altri video. Al di sotto dell'albero dei layer, vedi che già ho chiamato l'albero dei layer, in realtà albero dei database, c'è un altro box che in questo momento è vuoto, è la finestra delle proprietà. Qui dentro ci leggi tutte le informazioni, tutte le proprietà che competono a quell'entità, che devi selezionare. Quindi per andare a indagare un po' più intimamente questa nuvola di punti, io la devo andare a cliccare nel database, nell'albero dei database. Ci clicco sopra e come vedi sono successe due cose. Si è popolata questa finestra, la finestra delle proprietà, ed è comparso un volume, un parallelepipedo giallo nell'area principale di lavoro che occupa lo spazio tridimensionale. Questo parallelepipedo è il volume di ingombro dello spazio tridimensionale della nuvola di punti, ossia mi dice a livello di parallelepipedo qual è il massimo ingombro di questa nuvola di punti, indipendentemente da quella che è la sua forma. Il parallelepipedo mi dà anche delle indicazioni nel caso in cui ci dovessero essere dei punti che sono parecchio distanti dall'area principale di indagine o dal cuore del tuo rilievo e che magari ti sono scappati o durante l'acquisizione dei dati o durante l'elaborazione. Se il tuo parallelepipedo dovesse avere una o più facce che sono molto distanti rispetto al cuore della nuvola di punti, lì vuol dire che ci sono dei punti che magari si confondono con lo sfondo, che ti sono scappati, che però occupano lo spazio tridimensionale, che appartengono alla stessa entità e che tu puoi scegliere di trattare in qualche modo rimuovendoli oppure lasciandoli. È un'indicazione utile anche in questo senso. La finestra delle proprietà che sta sotto l'albero di database riporta tutte le informazioni che riguardano questa nuvola di punti. Non entro nel dettaglio del tipo di file che ho caricato al suo interno perché una volta che ho caricato una nuvola di punti all'interno di Cloud Compare le proprietà sono legate all'elemento nuvola che in qualche modo è legato al tipo di file però in questo caso specifico è molto debole il legame con il tipo di file. Anche sui tipi di file ci torno su un altro video. Questo box, questa finestra è divisa in settori. Il primo settore che trovi è il Cloud Compare Object, CC Object, che ti dà delle informazioni preliminari, principali, non saprei come appellarle queste informazioni. Comunque ti dà dei dati che ti permettono di sapere come si chiama la nuvola di punti. Il file si chiama generale. Lui come entità importata al suo interno gli ha aggiunto un suffisso trattino cloud. Puoi renderla visibile oppure no mettendo, togliendo la spunta su questo box, ma la stessa cosa la puoi fare mettendo, togliendo la spunta sul box che è associata all'entità. Puoi far vedere il nome nello spazio tridimensionale, questa opzione di default è disabilitata perché ti creerebbe questa roba qua che vedi, generale, trattino cloud, che secondo me non è di grande utilità perché può confondere un po' le idee. Puoi scegliere come vedere il colore. Ora il colore di una nuvola di punti è un'informazione potente perché la colorazione di ciascun punto della nuvola mi dà un'informazione extra e molto spesso mi permette di leggere in maniera molto più approfondita la scena che la nuvola di punti rappresenta. Ogni punto della nuvola è definito da una terna di coordinate x y z e non può essere così e tutto quanto è riferito all'interno di un sistema di riferimento tridimensionale cartesiano di cui gli assi te li ritrovi qui in basso a destra e puoi vedere l'orientamento a seconda di come ruoti la nuvola di punti. Io adesso mi sposto un po' la nuvola come vedi che ruotano anche gli assi. Ma ogni punto potrebbe avere un'informazione di colore. L'informazione di colore può derivare dal colore effettivo che quel punto descrive in relazione alla scena che è stata acquisita quindi un albero un punto di una foglia al colore verde il punto della spiaggia al colore grigio oppure la colorazione potrebbe derivare da delle proprietà extra che sono scritte per ogni punto della nuvola e ogni punto della nuvola se le porta con sé nella sua borsa. Nel primo caso ossia la colorazione reale mi viene da dire anche se stiamo parlando di un oggetto virtuale che ogni punto ha in relazione alla scena che rappresenta è il colore rgb questa informazione può o non può esserci a seconda di come è nata la nuvola di punti se c'è beh mi dà la possibilità di capire a che cosa partire un punto semplicemente guardando nella colorazione se faccio uno zoom in questo a parte del versante mi rendo conto che qui ci sono degli alberi i punti sono verdi e qua c'è del grigio air in relazione a una zona di frana attiva per dilavamento superficiale. Accedendo a questo menu a tendina posso scegliere di non vedere colore per la nuvola di punti non cancella il colore in questo comando ma disabilita la vista del colore una sorta di filtro e come vedi i punti della nuvola adesso sono tutti in colorazione bianca per cloud compare bianco e non colore e sei d'accordo con me sul fatto che la mancanza del colore mi permette di avere qualche informazione in meno te la rigiro non mi permette di avere tutte le informazioni che avevo con la colorazione della nuvola di punti vedo la tridimensionalità dell'oggetto ma il colore mi dava qualcosa in più c'è un'altra opzione dentro cloud compare per quanto riguarda il colore ed è l'opzione scalar field sugli scalar field sui campi scalari ci torno in un altro video ti basti sapere che i campi scalari sono proprio quelle informazioni extra oltre alla posizione e oltre al colore rappresentativo della realtà che ogni punto si porta dentro all'interno del suo zaino in questo caso vedi una colorazione rossa e una colorazione blu beh questa informazione deriva dalla genesi di ciascun punto di questa nuvola in relazione al momento in cui è stato creato ci sono dei punti rossi che appartengono al processo fotogrammetrico cioè i punti che sono stati creati dal processo fotogrammetrico e poi a seguito di una serie di mie elaborazioni sono stati tenuti per essere uniti con i punti blu che sono i punti che derivano dall'acquisizione lidar quindi un metodo attivo che sono stati anch'essi in qualche modo filtrati e poi sono stati uniti per creare un unico elemento quindi questo campo scalare è un'informazione che mi dice per ciascun punto qual è la sua provenienza i campi scalari possono descrivere in maniera molto vasta ciascun punto della nuvola di punti ad ogni informazione di campo scalare può corrispondere un colore diverso e quindi anche visivamente riesco ad avere delle informazioni sulla nuvola di punti in relazione a questi dati extra torno alla visualizzazione rgb come vedi è tutto non distruttivo non è niente elimina quello che c'era precedentemente è soltanto una visualizzazione se vado un po più in basso leggo box dimension shift box center global box center la premessa che ti faccio è che questa nuvola di punti originariamente importata nel software aveva una descrizione della posizione di ciascun punto x y z in relazione a un sistema di riferimento ben preciso io ho fatto un'acquisizione particolare oggi ho referenziato la nuvola di punti in un sistema di riferimento tale per cui la coordinata x e la coordinata y sono associate se dovessi guardare una mappa alla coordinata est e alla coordinata nord e siccome questi riferimenti hanno come punto di partenza delle il meridiano centrale del fuso di appartenenza non entro nel dettaglio di queste cose e l'equatore e siccome l'unità di misura del metro è facile arrivare ad avere milioni di punti scusa milioni di unità per descrivere la coordinata x e la coordinata y questo ha portato il software a fare una traslazione all'importazione del dato in modo tale da avere una nuvola di punti più gestibile per i suoi calcoli parto dal fondo global box center il centro del box quindi il centro del parallelepipedo che trovo utilizzando le diagonali a queste coordinate nel sistema globale cioè nel sistema di riferimento originale in cui l'ho importata siccome lui l'ha traslato ha traslato originamente tutta la nuvola adesso il centro del box shiftato occupa questa posizione come vedi sono dei numeri molto più bassi rispetto a questi e a lui torna molto meglio questa cosa le dimensioni del box invece sono queste ma qual è l'unità di misura sull'unità di misura di cloud compare è bene fare una riflessione perché non troverai da nessuna parte dentro cloud compare indicato ad esempio 535,684 metri centimetri, millimetri non troverai mai l'unità di misura cloud compare è un software che lavora con unità di misura intrinseche che cosa vuol dire vuol dire che sono legate all'unità di misura in cui sono descritte le coordinate di ciascun punto della nuvola quindi se le coordinate dei punti della tua nuvola sono espressi in metri allora cloud compare si prenderà come unità di misura il metro non te lo dirà mai tu lo devi sapere ma si prenderà il metro comunità di misura se sono millimetri allora si prenderà il millimetro e unità uno corrisponderà ad un millimetro questo è molto importante per due motivi intanto perché non devi utilizzare dei sistemi di riferimento o delle unità di misura che abbiano delle quantità diverse o anche delle entità diverse per gli assi del sistema di riferimento se hai ad esempio nella coordinata x nella coordinata y il metro non utilizzare il millimetro nella coordinata z ad esempio perché altrimenti si creerebbe un fattore di scala che andrebbe a scasinare tutto quanto ancor peggio succede se ad esempio la tua nuvola di punti è descritta i punti della nuvola sono descritti da una posizione planimetrica come latitudine e longitudine che sono gradi e la quota in metri quello è il classico la classica situazione di casino totale nella nuvola di punti dentro cloud compare l'unità intrinseca vuol dire che la tua nuvola di punti ha un'unità di misura per le coordinate che viene trasferita cloud compare nei casi di rilievi topografici rilievi del territorio è nel 99 per cento dei casi si lavora con il metro però magari hai fatto un modello tridimensionale una scansione un'acquisizione fotogrammetrica scalata correttamente orientata di una roba molto piccola e allora hai più interesse ad usare magari il centimetro come unità di misura di riferimento in quel caso cloud compare si prende il centimetro è molto elastico se vado più in basso nel settore cloud leggo le informazioni della nuvola di punti in termini di numero di punti 10.092.112 punti shift globale quindi di quanto è stata traslata la nuvola di punti all'importazione se è stato fatto il processo di traslazione non è detto che questa cosa ci sia se la tua nuvola di punti non ha dei numeri molto grandi perché il tuo sistema di riferimento non ha queste caratteristiche nella descrizione delle coordinate dei punti la traslazione globale potrebbe tranquillamente non avvenire e quindi non avrai global shifting se la nuvola è stata scalata avrai un valore di global scale diverso da 1 quindi avrai un valore di 1 punto qualcosa sia stata scalata in aumento o inferiore a 1 se è stata scalata in diminuzione point sites ti aiuta nella visualizzazione della nuvola di punti qualora fosse magari molto fosse poco densa o viceversa fosse molto densa e la tua impostazione di default ti creerebbe un po di casino nella comprensione point sites ti aumenta la dimensione dei punti della nuvola il punto ha la caratteristica come ente geometrico oltre ad essere descritto univocamente dalla sua posizione nello spazio in questo caso ha anche la caratteristica di essere indivisibile ma soprattutto adimensionale e di fatto nella sua impostazione di default point sites default la nuvola di punti la vedi come un insieme di elementi che se ci vai a zoomare specialmente su sfondo nero ti compare come una sorta di cielo stellato però di fatto lui è in grado di aumentare la dimensione dei punti come vedi secondo una scala che va da 1 a 16 creandoti gli elementi quadrati con lo scopo di permetterti di vedere meglio la nuvola di punti questa cosa qua la puoi fare utilizzando anche il comando che trovi in alto a sinistra quindi nell'area di lavoro principale se porto il cursore qui in alto a sinistra come vedi a un certo punto compare un box trasparente che ti dice default point sites e default line width cioè la dimensione dei punti e la dimensione delle linee la linea è un'altra entità che poi ti farò vedere ecco intervenendo su questo tasto meno più hai la possibilità di ridurre la dimensione dei punti della nuvola quindi ora sto facendo la sto aumentando o diminuendo non so cosa sto facendo non so perché una cosa non funziona comunque qua si interviene sulla dimensione dei punti della nuvola beh facciamo che ritorno qua forse devo andare su default e ecco forse dovevo mantenere qui in point sites default e poi a questo punto posso intervenire qua sopra per riportarmi in una vista di punti con una dimensione maggiore o minore quindi affinché questa roba funzioni l'ho imparato con te adesso devi andare su point sites default nelle impostazioni dentro il settore cloud andando avanti entriamo nel mondo dei campi scalari di cui non ti parlo in questo video ci sono una serie di settori sono anche piuttosto tanti i settori che riguardano i campi scalari dentro la finestra delle proprietà sono tre i settori dei campi scalari il primo ti dice quanti sono i campi scalari ossia quante informazioni ci sono dentro lo zaino di ciascun punto oltre all'informazione di posizione di colore qua ce ne sono otto qui c'è la lista dei campi scalari che sono associati a ciascun punto di questa nuvola di punti quindi l'id del dato sorgente è quello che ti ho fatto vedere precedentemente punto rosso punto blu a seconda di nuvola fotogrammetrica o nuvola da leader angolo di scansione numero di ritorni gps time intensity sono tutte informazioni extra associata a ciascun punto della nuvola qui puoi scegliere nella color scale puoi scegliere la colorazione associata a ciascun campo scalare perché è un dato che puoi modificare a piacimento se la colorazione rgb cioè la colorazione dell'elemento nel mondo reale rappresentativo del mondo reale è in effetti evidentemente collegata a quel punto nel mondo reale i campi scalari nella loro colorazione te li puoi gestire un po come ti pare e poi qua c'è un altro settore scalar field display parameters che è un settore molto potente per gestire l'informazione dei campi scalari in termini di filtro ma mi fermo qua perché altrimenti le cose si complicano l'ultima informazione che trovi qui in basso nella finestra delle proprietà è la matrice di trasformazione in realtà non l'ultima la penultima perché poi qua ci sono i metadati la matrice di trasformazione ti tiene traccia di tutto quello che è successo a livello di trasformazione nello spazio tridimensionale della nuvola di punti nella sua globalità quando lavori con una nuvola di punti dentro cloud compare ma dentro tutti i software che le gestiscono devi pensare che gli interventi li puoi fare a livello microscopico di ciascun punto lavorando sulle proprie proprietà ma se pensi di spostare pezzi di nuvola di punti beh questa roba non funziona gli movimenti nello spazio tridimensionale sono movimenti globali che avvengono mantenendo rigida l'entità nuvola di punti cioè tutti i punti vengono ruotati traslati scalati all'unisono affinché tu possa traslare in maniera differenziale parti della nuvola devi creare un altro elemento quindi devi dividere la nuvola di punti beh a livello generale la matrice di trasformazione è una cosa che ti dice proprio questo ti dice che cosa è successo dal momento in cui ha importato la nuvola di punti dentro software al momento in cui la vai a interrogare per cui la matrice di trasformazione tiene traccia di tutti gli spostamenti incrementali a partire dal momento in cui occupa la posizione di tempo zero in questa fase in questo momento la matrice di trasformazione è una matrice di trasformazione che ha elementi unitari sulla diagonale una matrice 4 per 4 ed è così suddivisa le prime tre righe le prime tre colonne quindi gli elementi 3 per 3 della matrice che sta in alto a sinistra rappresentano la rotazione e la scala della matrice di trasformazione mentre gli elementi della colonna gli elementi 1 per 3 della colonna rappresentano invece dalla traslazione l'ultima riga rappresenta alcuni parametri aggiuntivi che sono la prospettiva l'omogeneità adesso non entro nel dettaglio di questa roba ma sono delle cose che si possono fare ulteriormente sulla nuvola di punti se vedi una matrice di questo tipo vuol dire che la nuvola di punti non ha subito nessun tipo di cambiamento se ci fai qualcosa invece vedrai che le cose cambiano allora ti faccio un esempio e poi vado in chiusura adesso utilizzo uno strumento che lo strumento di rotazione traslazione ruoto la nuvola di punti ora gli sto cambiando effettivamente la posizione nello spazio e ti chiedo di guardare che cosa succede alla matrice di trasformazione quando do il tasto clicco sul tasto ok eccolo andiamo a ricercare ok la matrice di trasformazione ha occupato non occupato è cambiata in termini di numeri vedi che non ci sono più tutti quegli uno e quegli zero nella diagonale principale negli altri elementi per la matrice di trasformazione ha cambiato in relazione alla trasformazione che ci ho fatto posso anche roto traslarla la nuvola di punti quindi attivo anche la possibilità di fare delle traslazioni nello spazio oltre che delle rotazioni sto facendo ovviamente le cose molto spinte se ritorno qua giù la matrice di trasformazione è ulteriormente cambiata questo cambiamento che cos'è è la somma dei due cambiamenti a partire dallo zero dal tempo zero in cui era così bella ordinata questa matrice di trasformazione a questo punto in relazione alla situazione in cui si trova adesso nello spazio tridimensionale questa matrice potente perché se per qualche motivo tu volessi tornare indietro cloud comperti dalla possibilità di applicare la trasformazione inversa ritornare alla posizione di partenza però mi sembra che adesso le cose si stiano facendo un po troppo complicate quindi mi voglio fermare qua le ultime informazioni che leggi sono i metadati quindi informazioni legati al file LAS adesso sì che questa informazione è legata al tipo di file che hai portato dentro e che descrive la nuvola di punti però sui file della nuvola di punti te ne parlo in un altro video io spero che questo video un po' introduttivo su cloud comperti sia stato utile per capire che cosa ci puoi leggere in relazione alla nuvola di punti e alle informazioni che porta con sé dove andarle a leggere queste informazioni se non è stato utile fammelo sapere in modo tale da potermi permettere di fare video migliori anche grazie al tuo feedback se invece pensi che sia utile anche a qualcun altro glielo puoi condividere in questo modo mi aiuti a diffondere questo progetto se hai dei consigli dei suggerimenti degli spunti per dei nuovi contenuti mi puoi scrivere su telegram at paolo corradeghini altrimenti qua a sinistra ci sono i miei contatti social per raggiungermi online nei modi in cui preferisci se poi pensi che questo progetto sia interessante e valga la pena supportarlo puoi scegliere liberamente di diventare una finanziatrice o un finanziatore di tradimetrica patreon.com slash tradimetrica e mi fai capire che questi contenuti hanno un valore per te ed è grazie a chi ha già deciso di supportare il progetto che riesca a continuare a fare questi contenuti liberi per tutti io sono paolo corradeghini ti ringrazio per aver visto questo video fino a qua ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo ciao